Labrador Retriever, un cane per tutte le stagioni Il Labrador è un Retriever, cioè un cane da riporto E' un cane di taglia media, con una struttura robusta, di buona sostanza, ma agile Il mantello del Labrador, uniforme, senza pezzature, può essere di tre colori Giallo, nero o chocolate Per giallo si intende un colore che va dal crema al rosso volpe Più chiaro sul corpo e leggermente più scuro sulle orecchie Per chocolate si intende marrone scuro o fegato, totalmente uniforme E il nero è semplicemente nero, come vediamo in questo soggetto Nella sua patria d'origine, l'Inghilterra è classificato tra i gun dogs Ovvero cani da caccia Sarebbe però molto limitativo vederlo solo sotto questa veste La grande popolarità raggiunta al giorno d'oggi Si deve in gran parte al ruolo che svolge brillantemente Grazie Grazie